Mamma, 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 indama, zappar me Martedì 26 marzo esce nelle sale Arberia, l'opera prima di Francesca Olivieri, regista piemontese di origine arbreche, l'anteprima nazionale al cinema Garden di Rende. Il lungometraggio, prodotto dalla Open Fields, è sostenuto dal bando Luca, nato dall'intesa tra Fondazione Calabria Film Commission e Lucana Film Commission. Un film che indaga i legami forti e l'eredità culturale delle comunità albanesi che sopravvivono in alcuni piccoli borghi calabresi e lucani. È una storia ispirata a diverse vicende di alcune donne della mia famiglia. Il personaggio è quello di una donna perché la forza di queste comunità si regge sulla memoria che è stata tramandata dalle donne Arbreche. La lingua, così come altre tradizioni e costumi, tutta la cultura. Lei, diciamo, si riappropria delle sue origini grazie anche alla complicità della nipote che, contrariamente a lei, è fiera delle proprie origini e quindi compie un percorso, si ritrova riappropriandosi anche della sua lingua materna e ricordandosi quella che era prima di partire. Dio ci sono i miei uomini e i tanti sono i miei uomini. Una cultura che ora rischia di scomparire sotto il peso della globalizzazione. Sicuramente chi ne faccia i miei uomini. Zani, vieni a me. Un film che si rivolge al grande pubblico perché poi in fondo è una storia universale, è la storia di un ritorno a casa, quindi tutti quanti poi in fondo possiamo sentirci coinvolti in questa storia. Però è una storia anche complicata a raccontarsi perché poi per giunto è anche il primissimo film in lingua Arbreche della storia. Quindi abbiamo voluto sicuramente rappresentare nella maniera più veritiera appunto questa realtà culturale anche da un punto di vista linguistico e quindi una produzione speriamo di poter dire coraggiosa e speriamo anche fortunata. Lo scopriremo presto.